Buonasera a tutti, grazie di essere qui e di partecipare con noi questa sera a questo webinar dedicato dall'Istituto per la Cultura e l'Innovazione a un tema decisamente affascinante che ci porta ancora una volta al confine tra tecnologia e umanesimo, tra uomo e macchina e quest'oggi siamo in particolare qui con Fabrizio Falchi che è responsabile del Laboratorio Virtuale Nazionale del CNR sull'intelligenza artificiale e insieme a Michele Guerriero che è il presidente di ICIN parleremo di questo argomento affascinante che è la possibilità di una intuizione artificiale, quindi di una intelligenza artificiale che si spinge fino a insidiare la capacità umana appunto di intuire. Quello che vogliamo chiederci è se questo significhi poi la possibilità di attribuire appunto a sistemi artificiali tutta una serie di caratteristiche che normalmente noi associamo all'intuizione fino ad arrivare alle soglie della coscienza. Eccoci qua, allora intanto do il benvenuto appunto a Fabrizio Falchi. Grazie, grazie dell'invito. Ti chiederei senz'altro di iniziare se è d'accordo con una diciamo carrellata nella quale parleremo di questo argomento e a valle della quale poi potremo oltre a raccogliere eventualmente domande che dovessero esserci potremo interagire insomma approfondendo l'argomento. Benissimo, grazie Paola, grazie Michele per l'invito. Ho preparato una serie di slide che illustro brevemente qui la struttura. Ho pensato di fare un viaggio ecco verso la coscienza automatica parlando delle cose di cui so di più all'inizio per andare poi ad allargare lo spettro fino ad arrivare appunto al tema interessante, lo capisco, della coscienza automatica. Partiremo da esempi di AI, scusate la parola qui spesso l'intelligenza artificiale è messa come nell'accezione inglese artificial intelligence e quindi abbreviata come AI come si fa comunemente ormai anche in italiano. Parleremo di questo che viene chiamato il rinascimento dell'AI in maniera molto impropria perché il rinascimento non è quello che intendiamo noi italiani e in particolare lasciatemi dire io toscano. Parleremo di intuizione come ha già detto Paola e poi di intelligenza artificiale, di scienze connettive e di coscienza automatica. Quindi andiamo un po' dal particolare al generale. Questo sta anche, voglio dire, a dimostrare che i miei studi sono ingegneristici, sono ricercatore di un istituto che si chiama Scienze e Tecnologia dell'Informazione e quindi spesso parto dal concreto, dagli esperimenti, dalla tecnologia anche. E quindi perché anche questo percorso? Perché andiamo un po' sul poetico, citando non solo Cavafis ma anche il traduttore, visto che lo dirò in italiano, questi poveri traduttori sempre poco considerati, cioè pontani, cioè se la ritrovi povera, Itaca non ti ha illuso. Quindi voglio arrivare a Itaca, che sarà la coscienza automatica, in modo tale che se poi Itaca trovate che non c'è moltissimo da dire, almeno da parte mia, però il viaggio vi avrà appassionato. Ma come vedremo c'è molto da dire anche sulla coscienza automatica. Allora, veniamo agli esempi. Oggi abbiamo l'intelligenza artificiale in grado di vedere. Qui abbiamo una visualizzazione di cosa vede l'intelligenza artificiale che chiaramente ha come scopo finale poi quello della guida automatica, di cui tanto si parla e non se ne potrebbe parlare se percettivamente l'intelligenza artificiale non vedesse. Ma non solo vede, fa delle cose molto simpatiche, qui ci sono persone più o meno note, in basso a destra c'è una persona un po' meno nota, che sono io, invecchiate automaticamente. Sono cose che divertono molto e che provano però anche una capacità non solo di vedere, ma essere anche generativa dell'AI. Di andare a immaginare, addirittura in campo artistico, quello che si chiama style transfer, cioè dall'immagine di una fotografia in alto a sinistra, andare a ipotizzare quale poteva essere il quadro fatto da un artista, dando il quadro vero dell'artista e la fotografia, e chiedendo come potremmo fare un quadro simile che però abbia come contenuto la fotografia. E come vedete, i risultati sono se non altro interessanti. E lasciatemi dire, io che sono computer scientist, sorprendenti per quello che riguarda il prima del 2010, diciamo. E si arriva a queste immagini di facce di persone che sono molto particolari, perché queste persone non esistono, non sono mai esistite, sono immaginate da un'intelligenza artificiale che ipotizza quali possono essere i volti umani senza che questi siano reali. Questo porta anche a problemi, problemi che sono stati già sollevati. Come vedete qui, Barack Obama sta parlando, il video di sinistra, quello di Barack Obama, è assolutamente generato da un'intelligenza artificiale che adatta, immagina, diciamo, quello che sarebbe Obama se parlasse, dicesse esattamente le cose che dice l'attore a destra. Quindi l'attore a destra dice cosa gli pare, l'intelligenza artificiale trasforma quella che è la visione dell'attore in quella che è un video dove c'è Barack Obama. E questo chiaramente porta a dei problemi, porta a un'attenzione verso queste tematiche che è anche sociale e di comunicazione. In casa, molti di noi ormai hanno, nel bene e nel male, oggetti che sono in grado di ascoltarli, con cui si può parlare, che è una cosa positiva, perché, insomma, sempre questa cosa dei bottoni l'abbiamo già un po' superata con gli smartphones, no? E poi c'è anche Siri e tutti gli assistenti virtuali che ci ascoltano sugli smartphone, ma non è naturale, no? È data da un'incapacità delle macchine fino a qualche anno fa. Adesso ci troviamo sempre di più con oggetti che sono in pratica anche dei computer che poi vanno anche su internet, questo può creare problemi di privacy, ma non ce ne occupiamo qui, per favore, perché il tempo è tiranno, che però ci ascoltano, capiscono, almeno da un punto di vista delle parole che diciamo, cosa stiamo dicendo. E si va oltre, è stato molto importante la vittoria di un'intelligenza artificiale sviluppata da DeepMind, che è un'azienda inglese comprata da Google, al gioco AlphaGo. Avevano già abbattuto l'intelligenza artificiale in passato l'uomo agli scacchi, ma questo era un gioco che resisteva, resisteva nel senso che gli umani continuavano ad essere superiori alle macchine, sono stati in grado di battere gli umani perché questo è un gioco molto intuitivo e adesso siamo in grado di dare un'intuizione artificiale ai computer, ma vedremo come. Per ora ricordiamoci che quello è un gioco molto intuitivo. È un gioco molto intuitivo dove però c'è una conoscenza perfetta, diciamo. Nel poker invece no, non si sa che carte ha l'avversario e come vedete ci sono notizie anche di intelligenza artificiale che sono in grado di giocare a poker e addirittura di bleffare. Visto che è il 2021, non voglio portare ora qui il tema di Dante come centrale, però ho trovato in un articolo recente fra l'altro di due italiani, Floridi e Chiriatti, un esempio che loro hanno creato con un'intelligenza artificiale chiamata GPT-3, molto famosa, diciamo, lo stato dell'arte sul linguaggio, hanno proposto l'inizio del sonetto di Dante che non leggo per il rispetto che si deve al poeta e all'uomo, diciamo, e invece leggo quello che è il continuo che fa l'intelligenza artificiale che non è banale. Dice, ella par che sia una cosa santa e in lei vedersi può quanto bontà di femmine capace e tanto valore che giammai non fu da più bellezza. Un Dio per me la vo' sempre adorando e se mai la mente mia fosse offesa spero di far perdonarlo e questo è quello che fa che io sono sì del tutto suo servitore. Allora, come vedete, non ha capito che era un sonetto e non è nemmeno un'intelligenza artificiale che rispetta la metrica e tutte queste regole non le sono state date. E però, nonostante questo, è stato in grado di avere dei versi che suonano un po' come Dante. Quindi, vedremo, vedremo come questo è possibile e se questo nasconda una coscienza. L'intelligenza artificiale è su tutti i giornali anche. Ok? Tutti i giornali perché e questo è anche al centro dell'innovazione, spesso si parla dell'intelligenza artificiale come la nuova elettricità. Ma da quando è che si parla di tutto questo? Ok? E come è successo? E chi l'ha fatto? Queste sono alcune delle domande in una lavagna immaginaria a cui ce ne potrebbero essere veramente infinite e a cui intendo rispondere peraltro brevemente. Beh, appunto, rinascimento dell'AI. Il rinascimento è usato semplicemente per dire che era un tema fondamentale nello secolo scorso che un po' alla volta è andato perdendosi se non altro come tema tecnologico, come tema di innovazione, come tema anche centrale della computer science. E adesso invece è centrale. Come mai? Quando è successo? Allora, il 2012. Nel 2012 c'è una competizione. La vedremo meglio nel dettaglio, ma comunque è una competizione di visione. Si tratta di vedere delle immagini da parte di un'intelligenza artificiale, da parte di un algoritmo in generale, e di associarli un concetto, una parola, ma veramente un concetto che poi veniva da WordNet e quindi anche disambiguato, se vogliamo, ma non andiamo troppo nel dettaglio. Cosa successe? Che vinse sorprendentemente un approccio che oggi chiamiamo AlexNet, dal nome Alex del primo autore, poi vedremo gli altri chi sono, e l'approccio in cui sta a slide chiamato supervision e vinse. E cosa successe dopo? Beh, è successo il contrario di quello che può essere successo a Galileo, cioè la comunità scientifica, in particolare quella della visione da cui vengo io che mi occupo di visione, multimedia e ricerche su grandi quantità di dati, ha reagito dicendo beh, finora abbiamo sbagliato. Se non altro, nell'ambito della visione l'approccio giusto è questo che è stato oggi proposto. E prima di entrare nel dettaglio del cosa stiamo parlando, lasciate umanamente che parli un po' delle persone. Allora, nel 2012 a permettere questa rivoluzione che è stata all'interno delle scienze sono sostanzialmente tre persone. Uno è Hinton che è coautore ed è il professore di riferimento del gruppo di ricerca che produsse questo risultato ma ce ne sono altre due che non sono nell'articolo perché hanno portato qualcos'altro alla scienza per questa competizione. i dati ed è stata Fei Fei Li scusate qui c'è un nome sbagliato perché non ho messo Fei Fei Li il nome ma solo quello poi di Yen Sun Wang quindi abbiamo Fei Fei Li che ha portato i dati e abbiamo Yen Sun Wang che invece è una persona di business proprietario di Nvidia che ha portato la capacità di calco ma andiamo un po' nel dettaglio Hinton è figlio di scienziati ma famiglia molto una storia molto lunga di scienziati fra cui è pronipote di Bull si laurea in Inghilterra poi emigra lo troviamo in Canada ecco nel 2012 e tuttora è riferimento lì e lui porta diciamo quella che è la teoria che serve per realizzare questa innovazione Fei Li finalmente scritta qui correttamente invece è nata a Pechino emigrata negli Stati Uniti prima alla Princeton University poi al California Institute of Technology nel 2009 è fra i creatori di Imagenet e cos'è Imagenet? Imagenet è un archivio di immagini in cui c'è un soggetto prevalente e questo soggetto prevalente è diciamo labelled cioè c'è assegnato si sa qual è il soggetto prevalente è associato anche in maniera non ambigua e attraverso diciamo un'ontologia ci sono ad esempio i mammiferi ci sono i cani ok ci sono i veicoli eccetera quello che si chiedeva nella competizione dato un'immagine che l'intelligenza artificiale non conosce era di capire e di dire qual è il soggetto prevalente e perché abbiamo messo anche Jansu Wang e NVIDIA perché in particolare allenare perché scopriamo che queste intelligenze sono allenate l'intelligenza artificiale a fare queste cose è particolarmente costoso dal punto di vista computazionale e lui che aveva fatto queste schede video che ancora sono usate prevalentemente per il gioco aveva avviato nel 2007 un tipo di framework una possibilità di usarle per altri scopi fra cui quelli scientifici e cominciamo a parlare del come ma di cosa stiamo parlando allora dal punto di vista scientifico dell'innovazione della computer science e ci rifacciamo al paper deep learning in cui quelli che sono considerati tre punti di riferimento sul tema e fra l'altro i vincitori della Turing Award hanno come l'hanno impostato allora loro ritengono che il deep learning che è al centro di questa innovazione sia un sottinsieme di representation learning che è un sottinsieme del machine learning che finalmente è un sottinsieme dell'intelligenza artificiale e allora rifacciamo queste matriosche al contrario cominciando però non dall'intelligenza artificiale perché ci arriveremo in fondo ma dal machine learning cos'è il machine learning quando è che si dice che una macchina aumenta la propria capacità con l'esperienza beh ci vuole l'esperienza i dati ci vuole un task questo è importante perché per misurarlo dobbiamo dargli un obiettivo e una misura se veramente sta facendo quello che vogliamo ecco se la performance data la misura su quel task migliora con i dati con l'esperienza allora si parla che la macchina sta imparando dall'esperienza un esempio ora vedrete un'intelligenza artificiale che gioca a un giochino elettronico vi dovete immaginare tutta la parte di visualizzazione un giochino dell'Atari come se fosse stupida e lo è e l'intelligenza vede come se fosse una persona e gioca all'inizio l'intelligenza artificiale non gioca in maniera molto furba muove forse siamo noi nati nel 75 che ci ricordiamo molto bene questo giochino ma sostanzialmente va mosso il cursore in basso per far imbalzare la pallina in modo tale poi andare a distruggere tutto quello che sta sopra un po' alla volta giocando l'intelligenza artificiale migliora ma migliora fino al punto di fare cose particolari come questa vedete dopo tanti episodi ha capito che la cosa migliore probabilmente è mandare la pallina sopra da un piccolo tunnel e poi la pallina da sola rimbalzando spaccherà tutto beh questo tipo di intelligenza comincia a essere qualcosa che ci pone delle domande se veramente ci sia e che tipo di pensiero ci sia dietro ma andiamo dietro al paper per capire come viene realizzato abbiamo parlato di representation learning quindi qual è la caratteristica fondamentale la caratteristica fondamentale di representation learning è che prima ancora di svolgere bene il task l'obiettivo dell'apprendimento è creare internamente una rappresentazione della realtà di quello che si vede ad esempio che sia utile per quel task e deep e deep invece sta per la parola profonda perché di queste rappresentazioni non ce n'è una sola ma ce ne sono tante e praticamente da una rappresentazione siamo in grado anche di creare una rappresentazione a partire dalla rappresentazione precedente creando una gerarchia di rappresentazioni che ci porta poi a svolgere più facilmente il compito sposta chiaramente l'intelligenza artificiale perché agisce su dei dati che non sono quelli di ingresso ma attraverso una rappresentazione che è frutto di un processing addirittura multiplo gli esempi che vengono dati spesso sono del mondo della visione abbiamo già visto nel 2012 rinascere l'intelligenza artificiale nel mondo della visione ancora di più potremmo dire che sono negli ambiti percettivi come ad esempio anche il riconoscimento del linguaggio ma insomma se vediamo questa che è una struttura della rete convoluzionale che vince nel 2012 e cominciamo a capire che all'inizio vengono create rappresentazioni per piccole zone delle immagini e vengono cercati dei piccoli pattern poco significativi ma molto deterministici diciamo linee verticali orizzontali particolari zone di colore poi vengono messe insieme man mano qui vedete il crescere anche della dimensione di queste patch fino ad avere qualcosa che per noi è più sensato ma navighiamo all'inizio vediamo queste che sono 96 sostanzialmente patch 96 piccoli strutture di immagini che va a cercare poi componendole forma sempre più rappresentazioni di più alto livello fino a cosa fino ad avere vedi qui le cominciamo a capire la visualizzazione chiaramente non è facile perché si tratta di andare a vedere dentro la rete neuronale come reagiscono le rappresentazioni agli ingressi quello che vogliamo dire qui è che in ogni quadrato trovate nuove immagini come ad esempio le ruote che vengono associate all'istessa tipo di rappresentazione diciamo c'è un neurone che riconosce questo tipo di oggetto qui vediamo delle ruote se andiamo nei livelli più alti cominciamo a avere parti di animali fino a facce di animali eccetera e questo perché in ImageNet il cuore poi dell'analisi spesso erano immagini animali veicoli era una competizione erano solo mille classi da dover riconoscere Deep Learning al di là di questa struttura matriosca che ce la inserisce dentro l'intelligenza artificiale è capace di scoprire strutture complesse in grandi quantità di dati attraverso bad propagation e cos'è questa bad propagation proviamo a fare un esempio capendo prima però come simula il neurone questo è un neurone che noi abbiamo ad esempio nel nostro cervello questo viene ridotto a un'operazione matematica anche abbastanza banale una somma pesata degli ingressi e poi c'è una funzione di attivazione di questi neuroni ce ne sono tantissimi ma soprattutto sono organizzate in modo furbo e questa organizzazione è data diciamo dal queater scientist che la crea e che crea diciamo un a priori nella struttura del cervello però poi i pesi sono appresi automaticamente durante la fase di apprendimento e la fase di apprendimento consiste sostanzialmente ad esempio a mostrargli il gatto e qualsiasi sia la risposta della rete neuronale rispetto alle mille classiche potrebbe dire ai tempi di la competizione del 2012 mettiamo caso di cane noi sappiamo che è gatto abbiamo un algoritmo che si chiama bad propagation ne abbiamo anche altri ma in particolare questo è stato usato prevalentemente negli ultimi anni con tantissimi trick di cui qui non ci possiamo occupare che cosa fa questo algoritmo va a modificare i pesi in modo tale che la rete al passo successivo tenda a dire invece quella che è la risposta corretta che è il gatto perziano le rappresentazioni non sono solo queste parti visive della visione ma sono anche ottenute a partire dal linguaggio cosa vuol dire? beh queste rappresentazioni sono uno spazio multivimensionale che non possiamo visualizzare ma se lo riducessimo a due dimensioni potremmo immaginarci immaginarci vedete che queste parole vanno ad avere nello spazio valori di un vettore che pongono vicine parole che hanno una semantica vicina questo significa rappresentare internamente alla rete neuronale in termini di attivazione dei neuroni elementi visivi o elementi del linguaggio e questi sono stati chiamati word embeddings e poi sono stati molto usati anche nell'analisi del testo oggi siamo andati molto avanti con meccanismi di attenzione di cui riparteremo che non associano la stessa parola allo stesso vettore indipendentemente dal contesto ma che vanno anche a cambiare la rappresentazione a seconda del contesto in cui sono usate abbiamo detto che volevamo parlare di intuizione e infatti lo faremo per cercare un collegamento con una teoria con uno scienziato che non è un informatico per cercare di capire che tipo di intelligenza è questa che ha avuto così successo a partire dal 2012 allora partiamo prima da quello che ci ha detto Herbert Simon Herbert Simon già con la Turing Award del 75 anche per premio nobile eccetera disse che l'intuizione e il riconoscimento erano sostanzialmente la stessa cosa cioè riconoscere il gatto per un bambino è come è un procedimento intuitivo ora qui si parla intuizione esperta voglio dire non ci si immagina l'intuizione come una magia come qualcosa di innato ma come il frutto dell'apprendimento in particolare Kahneman che rispetta molto queste ipotesi anzi la condivide dice che non c'è nessuna differenza fra il bambino che indica un cane non sa perché e dice che quello è un cane perché ha imparato nella sua breve vita senza che nessuno gli insegnasse come riconoscere un cane ma gli è stato indicato probabilmente e invece il medico che riconosce una malattia ok intuisce qual è la malattia e fra l'altro qui comincia a parlare di problemi di conscio e di inconscio perché dice spesso non sa perché ma riconosce la malattia o il cane beh se ritorniamo alle persone Kahneman è uno studioso nato a Tel Aviv cresce a Parigi Palestina vediamo come tutte queste persone hanno una vita molto complessa e molto anomala sono degli outlier e sono in grado questi di dare un grande contributo alla scienza fa degli esperimenti che si trovano all'inizio del libro per esempio ci chiede cosa pensate guardando queste immagini la lascio un attimo poi evito diciamo l'interazione perché è anche difficile da remoto ma quello che dice Kahneman e che credo condividiate è che abbiamo visto una donna con dei capelli neri arrabbiata abbiamo anche avuto una percezione del futuro perché abbiamo avuto la sensazione che stesse per dire parole molto scortesi magari a voce alta e con tono stridulo potete aver avuto idee diverse ma una cosa importante è che non intendevate valutare il suo stato d'animo prevedere che azione potesse compiere ma queste ipotesi sono comunque venute in testa ora ci sono alcune immagini particolari o comunque tramite gli occhi possiamo vedere cose strane scusate prima ricordiamo che questo è quello che lui chiama sistema 1 ok il sistema diciamo che ha analizzato nel nostro cervello questa immagine per dire queste cose è quello che lui chiama sistema 1 sistema veloce automatico emotivo stereotipato e inconscio soprattutto ci sono altre immagini tipo questa che si prova guardandola beh sicuramente probabilmente in maniera intuitiva abbiamo capito che era una moltiplicazione ok sapevamo che potevamo risolverla ad occhio magari sappiamo che non fa 12.000 e nemmeno 123 escludere 586 è difficile ma c'è una cosa importante una delle cose importanti è che una soluzione precisa non ci è venuta in mente e ci siamo chiesti se era il caso di impegnarsi nel calcolo oppure ha detto ma Fabrizio che mi stai a fare i conti qui dobbiamo parlare di coscienza automatica ma questo è un momento cruciale nel vederlo abbiamo capito che era una moltiplicazione e ci siamo chiesti se valeva la pena fare questo conto se lo facciamo lo facciamo con un sistema che non è quello di prima perché recupera dalla memoria il programma cognitivo esegue il calcolo con uno sforzo e usa la memoria ok e ci sono alcune caratteristiche fisiche che rendono quella di Kahneman non che fra l'altro il libro dovrebbe essere qui a volte per parlare concretamente con i libri qui trovate molto più di quello che sto dicendo io però alcuni aspetti fisici la pupilla si dilata ok ci sono i muscoli si tendono si avverte fisicamente che qualcosa sta succedendo di diverso nella persona rispetto all'analisi del sistema 1 e se lo volete sapere fa 378 per svolgere questa questo calcolo il procedimento è lento faticoso logico calcolatore e soprattutto conscio e questo è il sistema 2 ora questa divisione fra sistema 1 e sistema 2 Kahneman ce lo ricorda che è un po' una forzatura lo sa anche lui però rende molto l'idea di come agiamo normalmente io sto muovendo le mani in maniera anche abbastanza caotica sicuramente usando il sistema 1 e anche alcune cose che dico lo faccio magari per abitudine perché l'ho già ridette usando il sistema 1 nella nostra vita lui sostiene il 95% del tempo usiamo soltanto il sistema 1 certo in alcuni casi il sistema 2 che è quello in cui riteniamo anche ci differisca di più differenzi differenzi dagli animali e dagli altri esseri viventi è appunto questo lento faticoso logico calcolatore e conscio anche nell'analisi del linguaggio in verità però usiamo l'intuizione perché questo esempio io proverò a leggerlo per voi ma potete divertirvi è un esempio in cui si legge tranquillamente secondo un professore dell'università di Cambridge non importa in che ordine appaiono le lettere in una parola l'unica cosa importante è che la prima e l'ultima lettera siano nel posto giusto qual è il problema? chi è scritta malissimo le uniche giuste sono la prima e l'ultima nel mezzo sono tutte messe in maniera disordinata e quindi non leggiamo parola per parola lettera per lettera formando le parole ma nella visione nel meccanismo che arriva al nostro cervello riusciamo a intuire le parole col sistema 1 e questo dove ci porta? ci porta a sostenere che è un'opinione ormai abbastanza condivisa anche dai creatori dei deep learning che quello che stiamo facendo con il deep learning è soprattutto il sistema 1 però però nel sistema 2 qualcosa sapevamo fare insomma quel conto lì una calcolatrice lo fa non con un pensiero non in maniera conscia attenzione però quello era un mondo che in qualche modo era entrato negli anni dentro le macchine il mondo invece dell'intuizione no e soprattutto non così bene beh e qui ci possiamo subito porre una domanda ma quando è che possiamo fidarci dell'intuizione? beh la risposta è importante perché è straordinariamente simile a quello che rispondiamo noi computer scientists quando ci diciamo quando è che possiamo fidarci del deep learning o del machine learning perché Gary Klein che è un autore di libri come questo che è un fan dell'intuizione e mentre invece Daniel Kahnema in verità è uno scettico ci ricorda costantemente quanto sia problematico il sistema 1 si misero a scrivere quest'articolo le condizioni per una intuizione esperta e il sottotitolo è il fallimento di un disagreement cioè il fallimento di un disaccordo in verità si sono trovati d'accordo su dei punti fondamentali cioè dice che possiamo fidarci del sistema 1 quando l'ambiente è sufficientemente regolare da essere predecibile non possiamo addestrare l'intelligenza artificiale a comprendere le estrazioni del lotto se sono fatte veramente in modo random e poi ci vuole un'altra cosa un'opportunità di imparare queste regolarità attraverso una pratica prolungata quindi la ripetizione quindi una ripetizione esattamente diciamo come per l'uomo per la macchina è importante vedere casi diversi ripetizioni che però devono portare alla generalizzazione quindi non tante volte la stessa identica situazione ma situazioni simili che possono portare a generalizzare a capire le regole che stanno in un ambiente o in qualsiasi ambiente che stia dietro a un impegno a un task come direbbero gli inglesi un po' di musica scusate per divagare chiaramente non la sentiremo però per capire cos'è l'intuizione esperta Miles Davis è famoso per aver inciso questo brano questo album Kind of Blue e si sa che distribuì alla band solo dei bozzetti di linee melodiche sulle quali improvvisare ora però qui è importante capire che questo fatto era eccezionale cioè il fatto che lui arrivasse solo con le linee melodiche quindi l'improvvisazione dei musicisti era sì fatta non scrivendo lo spartito e non seguendo lo spartito però era fatta da gente che lo spartito l'avrebbe potuto leggere l'aveva letto tante volte e avrebbe saputo scrivere lo spartito e scrivere musica questo per dire che come Mozart da piccolo improvvisava però componeva nonostante che improvvisasse come una persona che sapeva comporre in modo conscio col sistema 2 voglio dire che a volte passiamo delle capacità che sono proprio del sistema 2 un po' alla volta nel sistema 1 attraverso le ripetizioni eccetera ci sono un esempio che mi piace anche ricordare è quello del secondo preludio di Bach che ha una struttura ripetitiva qui l'environment la regolarità la si vede subito per un musicista cioè all'interno della battuta c'è una ripetizione i primi due quarti sono come il terzo e il quarto suonandolo leggendolo viene naturale abituarsi a questo e si smette di guardare in modo attento tant'è che c'è quella notina la si bemolle che è costantemente errato in esecuzioni famose anche che sono incise e addirittura lo si trova sbagliato anche in manoscritti antichi ma la prima versione diciamo ufficiale ed oggi è riconosciuta di Bach c'ha questa nota che invece è diverso al terzo quarto non ripete qui l'intuizione ci ha portato in errore però quando l'intuizione ci porta in errore c'è qualcosa c'è una regolarità che è saltata ed è bello vedere che se andiamo nei primi manoscritti di Bach era fortemente indeciso su cosa fare in questa battuta perché aveva due esigenze diverse rispettare quella regola e mettere questo sì per altre esigenze che l'hanno portato insomma a ragionarci molto intelligenza artificiale finalmente ci stiamo arrivando e prendiamo questo libro questo libro è un po' riferimento Russell Norwig che fa questa schematizzazione ok in primo luogo dobbiamo capire se l'intelligenza artificiale si basa sul dobbiamo analizzarlo in termini e svilupparla di ragionamento o di comportamento e l'altro aspetto è se al centro c'è l'uomo o un ideale un ideale se volete razionale e quindi cosa possiamo fare possiamo fare sistemi che pensano umanamente o sistemi che agiscono umanamente o sistemi che pensano razionalmente quindi dove razionalmente intendiamo anche molto la logica ok o sistemi che agiscono razionalmente beh per quello che abbiamo detto ora stiamo parlando di sistemi che agiscono umanamente ok muovono la macchina come se fossimo noi ok e sono in grado di continuare i versi di Dante come non farebbe lui perché è molto più bravo ma insomma e un riferimento che c'è già scritto qui è quello del test di Turing no? test di Turing è sviluppato in quest'articolo 50 in Mind Computing Machinery Intelligence è il gioco dell'imitazione lui pensava di capire se un'intelligenza artificiale insomma era veramente intelligente un soggetto C doveva capire se chi di A e B era il computer ok uno era una macchina l'altro e come faceva interagendoci a livello però di linguaggio non vedendole eccetera non voleva creare un robot umanoide il cui scopo fosse fargli un pizzicotto per capire se era un computer o no ma da un punto di vista estremamente razionale voglio dire umano però in termini di ragionamento beh questa cosa mi ricordava giusto Paola qualche giorno fa in preparazione di questo webinar è stata poi discussa molto da Searle attraverso il problema della stanza cinese lui diceva vabbè ma insomma se io metto una persona chiusa in una stanza che riceve dei simboli cinesi di ideogrammi e c'ha un libro bellissimo con delle regole e a ogni ideogramma sa rispondere questo non capisce nulla non ha un'intelligenza però attraverso delle regole può sembrare da fuori no che può falsificare può passare il test di Turing beh come lo possiamo vedere oggi oggi siamo in grado di fare delle macchine che quasi passano il test di Turing e però stiamo attenti non gli abbiamo scritto un libro delle regole hanno imparato da soli le regole se proprio questo libro esiste se lo sono scritto e allora questa confutazione diciamo questa critica al test di Turing di Sirle andiamo a capire come come diciamo applicarla a queste intelligenze artificiali che stiamo creando andiamo cominciamo a capire i creatori cosa pensano diciamo della loro intelligenza e questo è un libro di interviste che io suggerisco Architects of Intelligence in cui Benjo uno dei Turing Award insieme a Hinton dice che non sta cercando di imitare il cervello sta cercando di imitare alcune caratteristiche computazionali ma di che parla? Beh si rifà a un altro grande David Maher eccolo qua che parlava di visione e non è un caso abbiamo visto quanto è importante la visione in questo tipo di intelligenza artificiale lo vede come sistema di elaborazione delle informazioni in cui c'è un livello computazionale cosa fa il sistema e perché un livello algoritmico un livello di implementazione fisica non possiamo andare nei dettagli però quando lui parla di livello computazionale si riferisce a questo a questo autore a questa teoria e fortunatamente recentemente è uscito un altro articolo a seguito del premio che hanno vinto dei tre autori principali che come presenta quello che fanno loro loro sono la parte inspired by brain no? e dicono di vedere invece dall'altra parte c'è l'atteggiamento logico costruire una intelligenza attraverso logica formula eccetera loro ritengono di implementare non il ragionamento ma l'apprendimento per loro il centro è avere una macchina che apprende e non vogliono farlo dandogli delle regole predeterminate ma attraverso regole che evolvono queste regole servono per modificare il peso delle connessioni all'interno della rete neuronale c'è tutto un discorso sul simbolo e sui simboli esterni che sarebbe importante andare a vedere a fondo ma quello che dicono sostanzialmente è che la potenza sta nella rappresentazione cioè il fatto che il simbolo in un'organizzazione logica ha un senso solo nella rete di collegamenti che c'ha e qui invece il simbolo ha un vettore ha una rappresentazione e si attivano dei neuroni per quel simbolo e quindi si crea una voglio dire una percezione di quel simbolo all'interno della mente artificiale siamo qui a parlarne con Paola e con Michele anche perché l'intelligenza artificiale farebbe parte a volte ce lo scordiamo specialmente nel computer science di un ambito più grande che quello che negli anni è stato definito scienze cognitive in cui dovremmo analizzare tutte le cose insieme alla filosofia della mente la neurofisiologia la neuroscienza cognitiva la psicologia cognitiva la linguistica cognitiva ma arriviamo a Itaca arriviamo alla coscienza automatica cosa possiamo dire ma partiamo da una cosa che se volete è anche un'autocritica ma è la realtà non è che ci possiamo nascondere Galimberti ci dice che oggi la tecnologia e le innovazioni su questo settore di intelligenza artificiale oggi sono molto tecnologiche sono guidate dalle aziende la tecnologia si presenta spesso come un universo di mezzi il quale siccome non ha in vista dei fini ma solo degli effetti traduce i presunti fini in ulteriori mezzi per l'incremento infinito della sua efficienza perché lo dico perché dobbiamo capire se e come la tecnologia si pone come obiettivo la realizzazione di una coscienza automatica perché potrebbe non interessare si parla spesso di intelligenza forte e debole che non starò qui a delineare ma anche in termini di coscienza Holland ha fatto questa distinzione si parla di macchine coscienti quando davvero hanno una coscienza oppure di coscienza debole quando le macchine simulano la coscienza o processi cognitivi solitamente correlati con la coscienza alla fine potrebbero finire per comportarsi come se ce l'avessero ma in sostanza non avessero in questo caso sarebbe una coscienza debole la coscienza secondo Sörle è per forza qualitativa soggettiva e unificata ok e una caratteristica che ritroviamo in tanti ragionamenti che seguiranno è quella che l'esperienza percettiva cosciente accade come campo parte di un campo cosciente totale vediamo questa situazione aggregante poi ci ritornerò brevemente adesso mi piace anche ricordare Joshua Tenenau scusate le pronunce ma spesso queste persone le leggiamo e le conosciamo l'esatta pronuncia una parte fondamentale dovrebbe essere il senso di se stessi ok beh diciamo subito che le macchine di oggi non fanno niente per se stessi non hanno dei veri obiettivi ok sono create dagli uomini per perseguire i propri obiettivi e qui mi vengono in mente un po' un po' di arte parliamo un po' di cinema questo è un momento importante nel film di Kubrick che è fondamentale per l'intelligenza artificiale perché perché qui si discute molto ma insomma Hal 9000 dice che sta vincendo lui e poi la partita finisce si ritiene che non sia vero insomma gli scacchisti hanno analizzato io per la verità no ma un momento centrale nel film sarebbe quando l'intelligenza artificiale comincia a mentire perché comincia a mentire che scopo ha nel cinema troviamo molto spesso l'intelligenza artificiale collegata al concetto di schiavitù se ricordate anche Blade Runner la vita che fanno l'intelligenza artificiale addosso a questi androidi è molto brutta tendono poi infatti a liberarsi eccetera quindi il momento di arrivare alla coscienza automatica è disruptive è un momento che non è nemmeno voluto c'è un film una serie molto importante degli ultimi anni su questi temi che è Westworld ok in cui a un certo punto cosa su cosa si costruisce la storia che queste sono intelligenze artificiali fatte per divertire le persone è un parco di divertimenti però c'era un ricercatore che lavorava a questo progetto il quale non si accontentava di passare il test di Turing ma voleva la vera diciamo intelligenza la vera mente voleva creare una coscienza e questo poi porta a tutte le fasi anche peraltro violente essendo un film americano una serie americana della serie televisiva e l'idea centrale di questa serie televisiva che magari molti di voi hanno visto è la mente bicamerale cioè la controversa teoria secondo la quale fino a circa il 1000 a.C. una grandissima parte degli uomini non possedeva ancora una mente cosciente nel senso moderno del termine ma era guidata da voci interiori attribuite agli dei questo se volete è quello che sta dietro quella serie televisiva ma non parliamo solo di cinema qui ci dovrebbe essere sì Jan McKewan grande scrittore che ha fatto questo libro che è stupendo al centro del quale c'è possiamo possedere la coscienza in termini di comprare è al centro del libro perché il narratore il narratore del libro non lo scrittore quindi la voce narrante è indeciso balbetta tra il pensiero che la damo l'intelligenza artificiale che compra sia in realtà solo un gioco che sta lì per i suoi goal per i suoi scopi o un sofist anche se molto complicato o una coscienza reale come se stesso come l'umano dobbiamo ritornare però per capire qualcosa di cosa sta succedendo a chi sta facendo l'intelligenza artificiale di questi giorni insomma tipo a Jan Lecun che l'abbiamo un po' trascurato tra i tre premi award lui ritiene che sia un'illusione che comunque la coscienza sia una sorta di importante meccanismo di attenzione e perché ho preso questo perché l'attenzione è il tema centrale di questi giorni di intelligenza artificiale è un tema centrale che rivedremo non solo lui si sta occupando diciamo Jan Lecun lo fa in maniera abbastanza non diretta invece Benjo si occupa direttamente di coscienza attraverso un articolo in cui lui ritiene di cominciare a lavorare a una macchina cosciente e lui ritiene che gli elementi di un pensiero cosciente sono selezionati attraverso un meccanismo di attenzione e qui ritorna e quindi poi broadcast inviati a tutto il resto del cervello e questo poi influenza fortemente il cervello influenza la percezione le azioni e il contenuto del nostro prossimo pensiero coscio ma di cosa sta parlando sta parlando di quello che viene chiamato lo spazio di lavoro neuronale globale cioè questa teoria postula che tutti che due che ci siano due spazi neurocomputazionali ognuno caratterizzato da diverse patte di connettività dei sottistemi di elaborazione specializzati che sono quelli che abbiamo visto la visione ma anche in parte il linguaggio che trattano particolari tipi di informazione e poi ci sia uno spazio di lavoro neuronale globale e lui ha cominciato a lavorare a questo con cose che hanno ancora un successo scientifico e sperimentale però come vedete ha un'idea di come andare avanti e il meccanismo di attenzione è un tema cruciale a partire dal 2017 i recenti intelligenze come GPT-3 per il linguaggio e adesso anche nella visione hanno dentro un meccanismo di attenzione cioè la rappresentazione che creano degli oggetti delle parole dipende dall'attenzione che viene posta da altre cose o a quella stessa che sono nel contenuto e perché l'ho detto l'ho detto perché appunto l'attenzione mi sembra la parte che più si avvicina nella ricerca scientifica di tutti i giorni della computer science a un problema di coscienza in Italia c'è chi lavora davvero alla coscienza che non sono io che spunto sono computer scientist che di solito è già felice di realizzare intuizioni e di realizzare intuizioni artificiali di realizzare meccanismi di visioni che sono ad esempio Antonio Quella e Riccardo Manzotti che hanno scritto un interessante paper che trovate qui nel 2020 e l'invito che poi diciamo ci dà anche il là per parlare adesso con Paolo con Paola e Michele è che la coscienza artificiale non può essere affrontata come una disciplina puramente tecnica come la fisica non può essere considerata una semplicemente un'impresa tecnologica ed effettivamente credo che questo sia molto vero allora ho sommarizzato ho fatto un summary scusate ho fatto un elenco di quelli che possono essere spunti per la discussione li leggo a Paola e Michele me ne ero anche dimenticato allora i successi delle AI recenti sono caratterizzati da apprendimento automatico di capacità di creare rappresentazione e costruiscono principalmente quello che viene chiamato sistema 1 intuizioni esperte artificiali sono particolarmente adatte per la percezione ora però ci sono recenti approcci che hanno per fondamento l'attenzione la coscienza è considerata importante per la generalizzazione e questo è il motivo per cui aziende imprese e la tecnologia potrebbe andare verso la coscienza non per motivi filosofici o di interesse culturale ma perché forse con la coscienza riusciamo a avere macchine che svolgono i compiti che l'uomo gli dà per l'appunto e che non sono i loro in maniera migliore se così è possiamo immaginarsi che tanti si mettono a sviluppare coscienze automatiche e non so con che è successo questo lo vedremo la ricerca in AI oggi è principalmente tecnologica non è guidata da un fine se non il fine del business dello sviluppo però è molto pratica e dà dei risultati scientifici seri perché quando funziona funziona lo sappiamo abbiamo data se sappiamo come misurarlo e la domanda che ci possiamo fare è necessario opportuno sensato costruire una coscienza automatica oppure quello che vogliamo sono queste macchine intelligenze senza coscienza che ci sentiamo anche tranquilli di tenerli come schiavi al nostro servizio e la coscienza può essere implementata come una scelta fra sistema 1 e sistema 2 perché abbiamo visto che c'è questo problema di quando passare da uno all'altro e poi un ultimo tema potrebbe essere ci sono alcuni che ritengono che la coscienza sia legata alla meccanica quantistica se così fosse l'avvento del quantum machine learning cioè di computer che sono quantistici potrebbero aiutare alla realizzazione di una coscienza automatica scusate se ho sforato anzi scusate che ho sforato grazie per il tempo e per l'attenzione grazie grazie mille Fabrizio veramente mi sembra che abbiamo messo tantissimo materiale come dire sul piatto e che non manchino gli spunti di riflessione Michele non so se vuoi iniziare tu tanto credo che ci litigheremo la riflessione tramite quindi vai no no ma c'è no innanzitutto grazie Fabrizio sia per aver citato l'invito che qualifica molto bene gli incontri che noi stiamo portando avanti in questo periodo in questo primo anno di attività da quando ce ne occupiamo noi dell'Istituto per la cultura e l'innovazione in continuità con quello che è stato fatto negli anni scorsi per venire al tema visto che ci sono molti molti elementi alcuni che giustamente risentono del lavoro che Fabrizio fa insieme al CNR e delle competenze scientifiche tecnologiche della sua formazione altri invece come lui ha fatto poi anche nella seconda parte quando ci siamo avvicinati verso quello che viene definito dagli studiosi l'esagono che comprende anche le scienze cognitive la filosofia l'antropologia insomma gli studi sull'evoluzione e tutte le neuroscienze eccetera innanzitutto mi è sembrato molto interessante da una parte il fatto che anche la coscienza è molto probabile se non vero che sia frutto di un'evoluzione cioè quello che diceva lo studio su mille anni fa gli uomini non sentivano la coscienza ma sentivano la voce degli dei di Lìa dell'Odissea ce lo dimostrano cioè gli uomini non attribuivano a se stessi al sistema delle proprie decisioni delle proprie scelte ma attribuivano agli dei quello che insomma poteva essere il destino piuttosto che la propria fortuna eccetera quindi la coscienza come elemento dell'evoluzione sotto il profilo filosofico mi è sembrato molto interessante il fatto che molti meccanismi che sono sotto l'intelligenza artificiale siano fondati sull'associazionismo e quindi diciamo ci torna utile nella storia della filosofia Paolo lo so meglio di me un grande filosofo che si chiama David Hume che ha fatto dell'associazionismo è stato forse la pietra miliare molto molto sottovalutata nel dibattito e non a caso chi ha ripreso David Hume nel studio della coscienza oggi è Daniel Dennett che parla di coscienza non come un elemento aprioristico che sta prima delle nostre scelte ma invece come un elemento che è frutto di tutte le nostre scelte quindi è diciamo uno studio una visione della coscienza che cambia anche se vogliamo i termini di comportamento dell'etica della morale che tutti noi abbiamo conosciuto sino ad ora l'altro elemento molto interessante che ho trovato è l'imitazione l'imitazione la mimesis l'apprendimento il comportamento perché apprendere apprendimento e comportamento non vanno separati non vogliamo diciamo fare l'errore del comportamentismo in qualche modo nella storia dell'idea ma mi sembra di capire che la macchina come l'uomo non a caso per spiegarci che cos'è l'intuizione abbiamo fatto l'esempio del bambino che riconosce il cane perché forse qualcuno gli era indicato però non esiste solo un tipo di cane esistono tanti cani però il bambino è capace di riconoscere il cane non necessariamente che sia pastore tedesco piuttosto che un barboncino esatto quindi anche da questo punto di vista la macchina il sistema della macchina è capace non so se tra virgolette o senza poi lo facciamo dire a Fabrizio è capace di apprendere e migliora l'apprendimento il giochino degli anni noi che siamo nati negli anni 70 molto divertente prima che inventassero tutti questi giochi attuali noi eravamo limitati a quei giochi insomma la macchina apprende e capisce come lanciare la pallina l'apprendimento ha un ruolo importantissimo nella coscienza se vogliamo anche nell'autocoscienza quindi la coscienza di se stessi cioè io sono capace non soltanto di pensare ma sono capace di pensare il mio pensiero e questa secondo me la sfida che hanno davanti anche coloro i quali si spingono a pensare ad una coscienza per le macchine ho soltanto un diciamo volendo sintetizzare ho soltanto un motivo di di dubbio nel senso che ora se è utile non è utile se è un discorso etico morale lasciamo stare la privacy tutti questi discorsi lasciamo stare da un punto di vista però noi sappiamo che la macchina è stato un grandissimo esempio per la mente umana la prima parte delle scienze cognitive sull'intelligenza artificiale cosiddetta Fabrizio e Paolo lo sanno meglio di me l'intelligenza artificiale forte era un modello per la mente umana sì poi nella seconda parte del novecento la seconda parte degli studi sull'intelligenza artificiale abbiamo capito che invece c'è il contrario cioè molti si sono spinti appunto per quello l'esempio del neurone del funzionamento della mente sul quale misurare e costruire un'intelligenza artificiale oggi e quindi la macchina è un grandissimo uno strepitoso esempio non a caso Fabrizio cita il sistema rappresentazionale il sistema dei simboli il riferimento e la combinazione di questi simboli e quindi da Turing in poi sappiamo che questo sistema sia molto affinato e molto migliorato non a caso tutti gli ultimi studi che io sinceramente non conoscevo e ho preso molti appunti che Fabrizio ha citato sono lì a dimostrarlo dove nasce il motivo di dubbio da una parte la macchina è un grande esempio può essere un paradigma sul quale misurare e anche al contrario la mente e qui l'intuizione e qui anche le emozioni la macchina più che è capace di intuire può essere capace di provare delle emozioni che non sono diciamo racchiudibili in qualche modo uso questo termine un po' brutto all'interno di un momento all'interno di un sistema come dire basato sull'esempio delle macchine cioè io provo dolore nel tempo per la morte di mio padre provo gelosia ed è una situazione che mi accompagna nel tempo la macchina che di solito da noi viene pensata come qualche cosa che si muove in un istante da un risultato in un istante arriverà a questo tipo di capacità perché le emozioni come dire lo studio sulle emozioni appunto nello sviluppo della coscienza anche dell'evoluzione dell'Arvin in poi lo stesso Antonio Damasio ha scritto tantissimo su questo e mi trovo molto d'accordo sul fatto che noi spesso scegliamo prendiamo delle decisioni sulla base del sistema 1 non sulla base del sistema 2 cioè noi tante volte 95% forse 98 Fabrizio scegliamo sul sistema 1 il sistema 2 lo lasciamo magari ad una parte di cose sulle quali comunque abbiamo come base il sistema 1 quindi mi rimane questo dubbio e forse questo sarà una delle frontiere tra 30 anni 40 anni 20 anni non lo so ci troveremo a discutere davvero grazie Fabrizio per gli spunti grazie grazie Michele mi hai fatto venire in mente che una cosa non ho sottolineato per ragioni di usabilità per ragioni tecniche stiamo tenendo per ora in computer science molto separate la fase dell'apprendimento e la fase dell'utilizzo cioè cosa vuol dire che non è come una persona un'intelligenza vera che teniamo ad esempio Alexa a casa vostra oppure le macchine anche perfino quelle che guidano in situazioni che continuano ad apprendere quando sono in uso ma le teniamo in un ambiente vattato ad apprendere fino a quando le fermiamo e non hanno più uno sviluppo e quindi proprio quello probabilmente non possono avere una coscienza forse addirittura non vogliamo che l'abbiano perché lì si fermano e addirittura diventano allo stesso input rispondono con lo stesso output perché non imparano più quindi se fanno un errore lo continuano anche a fare perché si ritiene molto pericoloso avere un oggetto che vede o che risponde o che fa delle qualsiasi attività in relazione anche all'uomo e che da oggi a domani cambia il suo comportamento e quello che voglio dire è che attualmente non c'è siccome questo è un settore che si sta sviluppando molto anche per spinte economiche sociali ed innovazioni non c'è da questi settori la volontà di una coscienza forse anche c'è la volontà di starne lontano anche per tranquillizzare e quindi non capiamo tanto quanto quello che abbiamo fatto finora sia limitato in termini di coscienza automatico dal fatto di non volerla di non averla comunque cercata o quanto invece non sia possibile detto questo se la coscienza è in qualche modo comunque la percezione dei pensieri interni che abbiamo beh allora sicuramente non abbiamo messo le macchine ad osservare internamente loro stessi processi mentali che siano intuitivi o non intuitivi ma se lo facessimo pensiamo che c'è della speranza che effettivamente questa percezione la abbiano perché tutto quello che è stata l'innovazione in questi ultimi anni è comunque in un ambito che è quello percettivo a questo punto non posso non posso evitare di dire due parole anch'io che sono affascinatissima dall'argomento naturalmente ma che ho capito meglio anche mentre parlavamo lo stesso titolo che abbiamo dato in realtà a questo seminario cioè a me pare un titolo furbo un titolo furbo un titolo furbo e vabbè questo perché è stato ben pensato ma in sostanza questa coscienza automatica ce l'abbiamo già anche se non è una coscienza e non è automatica mi spiego meglio se facciamo riferimento al fatto che ci sono agenti razionali li chiamano RAS e Norvig testo di riferimento diciamo al manuale dell'intelligenza artificiale dicendo tra l'altro attenzione a chiamarla intelligenza artificiale perché c'è qualcuno che si potrebbe fare delle strane idee come è puntualmente accaduto ma se noi parliamo di questi agenti razionali effettivamente li vediamo li abbiamo visti bene all'opera dall'epoca dei calcolatrici sul sistema 2 appunto quindi intelligenze non so ma sicuramente agenti razionali capaci di portare a termine dei compiti che sono dei compiti automatici sempre meno automatici e quindi coscienti nel senso di espliciti non di autocoscienti ci arrivo tra un attimo espliciti ok adesso con appunto la fine dell'inverno di quello che viene chiamato l'inverno dell'intelligenza artificiale che appunto come ricordava giustamente Fabrizio almeno dal secolo scorso ha avuto questa storia tormentata di abbandoni di ritorni gente che ha buttato via tutto poi è stato lì a dire no porca miseria devo riprendere tutti gli appunti insomma è stato un secolo interessante non ancora un secolo ma insomma un andamento interessante adesso siamo arrivati quasi al paradosso di queste reti neurali che sanno qualcosa riconoscono qualcosa e noi non capiamo perché esattamente come sarebbe accaduto nel nostro stesso cervello in cui i meccanismi diciamo riproducono in qualche maniera come abbiamo visto quindi sistema 1 incosciente o più che incosciente dovremmo dire appunto non esplicito sommerso forse lo potremmo forse lo potremmo definire sommerso e perché dicevo non è automatica appunto perché le macchine oggi non possiamo più dire realmente che siano automatiche nel momento in cui come dice giustamente Fabrizio non c'è il manuale nella stanza nella stanza cinese ci sono regole autoapprese ci sono regole autoapprese che però non si spingono ancora fino alla conquista dell'autocoscienza cioè del sé cioè a me pare che il discrimine ci sia ancora forse meno male e che passi da lì cioè che passi dalla conquista del sé e quindi da una autocoscienza da una riflessione una riflessione che forse non so se sia un frutto più o meno dell'evoluzione certamente quello che oggi una diciamo delle discipline che gravita in questo universo di scienze cognitive delle quali abbiamo parlato classifica come o meglio esplora analizza come il frutto di un sistema relazionale quindi visto che abbiamo tirato fuori un sacco di libri faccio la stessa cosa anch'io a questo punto e tiro fuori questo volume che si intitola la mente relazionale che dice cosa dice quello che poi abbiamo postato sui network di Icin esattamente ieri cioè che il sé non è mai singolare che il sé è frutto di una rete di una rete sociale di entità interdipendenti che è anche difficile chiamare entità e quindi definire in sé per sé e quindi è un prodotto è il risultato più che un prodotto è una parola brutta è il risultato di un processo relazionale la nostra stessa mente non sarebbe tale se non fosse nata e appunto Siegel cita ampiamente le emozioni per tornare a quello che diceva Michele il ruolo dell'emozione il ruolo dell'emozione è impensabile senza relazione ecco allora forse il fronte anche ammettendo che e io penso che sia anche possibile che lo sviluppo dei sistemi artificiali si spinga appunto fino a questa piena implementazione di una di una coscienza automatica mi pare che il discrimine si possa dire che sia ancora abbastanza lì cioè sulla autocoscienza sulla formazione di un sé che però non è mai un sé in sé per sé non è mai un sé isolato non è mai una monade ma è invece un elemento di una rete di relazioni alle quali dà e restituisce costantemente proprio non solo per affermare se stesso ma anche per affermare il suo legame col mondo che poi anche qui è quello che diciamo nei vari inverni dell'intelligenza artificiale siamo arrivati a capire che è un po' quello che manca questo senso comune questo senso del mondo ecco magari la coscienza ci arriviamo il senso del mondo non lo so diciamo siamo molto lontani però mi hai fatto venire la voglia di rispondere su una cosa sul discorso evoluzionista perché se effettivamente come è ragionevole pensare la coscienza è frutto dell'evoluzione allora noi rischiamo oppure abbiamo la possibilità di arrivarci anche attraverso la ricerca che stiamo facendo ora cioè se guardiamo la ricerca sull'intelligenza artificiale odierna è molto voglio una macchina in grado di fare in maniera intelligente determinate operazioni e attraverso abbiamo visto a che punto siamo arrivati anche lontano da quello che credevamo e continueremo a farlo non solo noi come ricerca pubblica ma anche la ricerca privata se questo è uno spazio molto evoluzionistico no? cioè si creano muoiono si fanno altre intelligenti che sono sempre più intelligenti e come gli animali nell'ambiente sono in grado di operare in maniera più performante più efficace beh se attraverso solo queste evoluzioni si arrivasse alla coscienza potremmo arrivarci senza averla posta come obiettivo mentre invece attualmente questo obiettivo in gran parte non c'è in gran parte ci possiamo chiedere se sia il caso e perché l'intelligenza artificiale che è stata sviluppata non è stata sviluppata per comprendere meglio il nostro cervello ed è anche da lì che voglio dire ci siamo un po' persi nelle relazioni con la filosofia la psicologia e tutto il resto perché in questa in questo non uso dell'intelligenza artificiale per comprendere meglio noi stessi abbiamo per certi versi rinunciato ad alcune cose tra cui la coscienza che però potremmo ritrovarci per assurdo come un risultato dell'evoluzione di tutti questi esseri artificiali che stiamo costruendo per fare cose molto banali magari ma che un po' alla volta diventano sempre più complesse ci aveva appena chiesto esattamente questo una ascoltatrice ascoltatore non lo so che diceva ti chiedeva appunto se fosse possibile se pensi che sia possibile che l'intelligenza artificiale ci insegni qualcosa sull'intelligenza to cure visto che no un prodotto secondario proprio di tutto questo è il fatto che si possano sviluppare delle conoscenze esaminando le scelte stesse della macchina che poi è un po' quello che viene fatto già per esempio considerando la ricerca che si sviluppa attorno a specifici artefatti come le self-driving car per esempio che è tutto quello che scatena il problema dell'etica che qui non toccheremo assolutamente non ce la facciamo sì mi era venuta un'idea prima del discorso dell'etica che mi ha distratto scusa all'inizio lei chiedeva sul discorso evoluzionista sì no dice se pensi che sia possibile che l'intelligenza artificiale che riconoscere ci aiuti a scappurre sì ci sono due aspetti uno che è quello diciamo anche che mi piace di più scientifico cioè analizzando come siamo riusciti a costruire un'intelligenza artificiale al momento senza coscienza un giorno con la coscienza possiamo capire qualcosa di più su come è fatto il nostro di cervello sapendo anche che attualmente da un punto di vista biologico e funzionale non ne sappiamo tantissimo l'altro aspetto però un po' rischioso potrebbe essere quello di avere un'intelligenza artificiale con cui interagire cioè quante cose potremmo imparare su noi stessi interagendo con un'intelligenza artificiale magari cosciente ma non umana questo è anche un po' il tema che forse affronta Jan McKeeman in questo libro chiaramente come però quello è un altro tema cioè da una parte c'è quello che si impara costruendo un'intelligenza artificiale dall'altra parte c'è quello che possiamo imparare interagendo con un'intelligenza artificiale con una relazione con un'intelligenza artificiale perché come dicevi bene te se le intelligenze artificiali acquisiscono una coscienza solo interagendo fra di loro immaginiamo che autocoscienza diversa potremmo acquisire noi interagendo con un'intelligenza che non sia umana ma artificiale però sono tutte domande non ho risposte sì io penso che il nostro titolo del seminario che è stato frutto dell'intuizione di Paola diciamo così per usare per restare al tema avesse ovviamente nell'automatico quello che noi in qualche modo già pensavamo ovvero cioè la macchina è in grado di assolvere dei compiti automatici in questo senso dice Paola possiamo pensare di una coscienza proprio perché non tutti siamo d'accordo su un significato univoco di coscienza cioè una coscienza sulla quale siamo tutti d'accordo cioè un'autoconsapevolezza una consapevolezza di quello che faccio che va bene c'è una coscienza in termini morali sui quali è inutile dilungarsi perché apriremo un altro tema che non è il nostro c'è poi la coscienza in realtà che non so se alcuni filosofi si stanno molto dedicando a questo tema un po' come fanno diciamo così i giganti del business perché porta un po' di attenzione ovvero la coscienza come problema difficile quello di cui parla Chambers ultimamente è una nuova edizione che da una parte butta via il riduzionismo dall'altra cerca di salvare diciamo così una chiave filosofica della coscienza e quindi una chiave problematica che in parte forse butta via anche gran parte della fenomenologia perché non sempre sono d'accordo le diverse scuole di pensiero e quindi da questo punto di vista penso che sic stantipus rebus stando nella situazione attuale il problema non sia tanto la macchina quanto il problema vero della coscienza che continua a essere come dire una continuazione del problema non la chiamiamo mente in qualche modo non tutti sono d'accordo ma la chiamiamo coscienza cioè il pensiero rispetto a alla materia anche questa divisione è assolutamente fuorviante in qualche modo molto fuorviante quindi da questo punto di vista penso che se mettessimo attorno a un tavolo è per questo che bisogna promuovere anche degli studi interdisciplinari filosofi scienziati cognitivi neuroscienziati forse non tutti i filosofi si sederebbero attorno a quel tavolo perché mi è capitato di poter verificare che non tutti siano d'accordo e molti dicono vabbè la filosofia comunque è un ambito di studi superiore in realtà diciamo così il corso della nuova filosofia dimostra che non è più così la filosofia si mette a fianco alle altre scienze per appunto studiare e capire dove ci sono i problemi da questo punto di vista penso però che il problema della coscienza sia abbastanza irriducibile da una parte perché come diceva lo stesso Fabrizio noi non conosciamo il funzionamento vero del cervello poi non necessariamente la coscienza riguarda solo il funzionamento del cervello perché anche il funzionamento del nostro corpo il funzionamento delle nostre scelte quindi insomma la problematica va molto oltre la macchina e sicuramente diciamo disegni a scenari che secondo me attualmente però se mi sbaglio attualmente non riguarderebbero il problema della macchina è vero è vero sicuramente abbiamo accettato io in primis voglio dire di discutere di una cosa che è ancora controversa parlare di una coscienza automatica nel momento in cui non abbiamo un agreement una convergenza filosofica intellettuale su cosa sia la nostra di coscienza effettivamente è difficile ma al contempo affascinante perché come tutte le scienze vive così come gli stili artistici finché sono vivi non si riesce a codificare in una maniera fissa bene io vedo che abbiamo sforato il nostro il nostro tempo seminariale che avevamo fissato a un'ora e sono sicura che potremmo andare anche lungamente avanti per altre diverse ore parlando di questo di questo tema per esempio parlando dell'attenzione della memoria del fatto che alla fine esistono delle memorie artificiali quindi perché non dovrebbero esistere le attenzioni artificiali e quindi questo potrebbe essere magari un secondo episodio del nostro del nostro incontro per adesso se siete d'accordo io saluterei rinunciando veramente tantissimo Fabrizio Falchi per essere stato con noi e per averci dato tutti gli spunti che abbiamo visto che abbiamo discusso fino adesso e tutti quelli che arriveranno sicuramente dopo la chiusura di questo seminario ai quali cercheremo comunque di dare seguito grazie di nuovo allora Fabrizio grazie Michele Guerriero grazie a tutti voi che ci avete seguito e buona serata grazie grazie a voi grazie a tutti